Lutto grave nel mondo del cinema è morto infatti Christo Yikov Era un famoso attore, purtroppo se ne va a 48 anni di età, aveva purtroppo un tumore Esordì nel film di Armand Ormi, Il mestiere delle armi, però ebbe un successo incredibile e clamoroso facendo il ruolo di Giovanni Nel famoso film di Mel Gibson, La passione di Christo, The passion of Christo Era nato nel 75 in Bulgaria, si diplomò all'Accademia Bulgari di Cinema e Teatro, si specializzò nella regia Attraverso anche un documentario su Cinecittà E Puffay poi fu scelto grazie alle sue caratteristiche piuttosto utili nell'ambito del cinema, nell'ambito della recitazione Seppe veramente interpretare meglio i canoni tipici del mondo attoriale, riuscendo a fare veramente grandi cose Tra quelli che hanno voluto ricordare il personaggio in questione c'è stata anche la bella Maria Grazia Cucinotta Che proprio con costui recitò nella pellicola Fire White di Roberto Lippolis Insomma, una vicenda questa triste, che sciocca e turba quindi il mondo del cinema recitato Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate Christo Yikov riposi in pace, Amen